Salve, buongiorno a tutti, un piacere essere qui e per l'ultimo intervento, penso della giornata o comunque in questa sala, ci trasferiamo a Barcellona e io parlerò dell'esperienza che sto facendo da tre anni ormai a Barcellona come assessore all'innovazione digitale e tecnologica della città, chiaramente non catalana, italiana, italianissima, romana e unica straniera nel governo di Barcellona. Adesso vi racconterò un po' innanzitutto perché le città sono oggi centro dello sviluppo e anche laboratorio per ripensare il futuro e poi vi parlerò un po' di quali sono le cose principali, alcuni dei progetti che stiamo mettendo in campo a Barcellona e come magari questa esperienza può trasformarsi un po' in un blueprint anche per altre città. in tutto il mondo. Innanzitutto perché oggi le città diventano motore dello sviluppo e anche motore per ripensare il futuro? Uno dei motivi è proprio il fatto che abbiamo di fronte delle grosse sfide a livello globale, disuguaglianze, polarizzazione delle ricchezze, il cambiamento climatico, le migrazioni, una forte instabilità sia finanziaria che geopolitica e anche questioni appunto di stagnazione, depressione dei salari, eccetera. E di fronte a queste grosse sfide globali, forse storiche per cui bisogna mettere in campo una visione del futuro e delle politiche efficaci, diciamo che molti stati sono incapaci di dare delle risposte concrete ai cittadini. E quindi si parla moltissimo adesso di crisi, addirittura di legittimità della democrazia liberale, liberale e comunque crisi sicuramente della rappresentanza politica. E come vediamo anche la crescita di vari populismi che arrivano al potere. Inoltre, diciamo, questo accelerato sviluppo tecnologico e la famosa quarta rivoluzione industriale e l'economia dei robot, quindi non solo lo strapotere, diciamo, dei big tech, ma anche la robotizzazione dell'economia e un'accelerazione di una convergenza di alcune tendenze tecnologiche, fra cui l'intelligenza artificiale, il 5G, massive computation, a livelli che non abbiamo visto prima, entreranno in maniera distruttiva su alcuni dei settori chiavi dell'economia, quindi l'uso appunto dell'intelligenza artificiale nella medicina, nell'agricoltura, driverless car, insomma settori chiave a livello industriale che verranno trasformati, e sono trasformati in questo momento in maniera molto forte. E quello che ci dobbiamo chiedere, anche quando si fa una politica digitale a livello locale, è in che modo queste tendenze saranno accelerate. E chiaramente, come vediamo sui giornali, ormai nelle notizie di tutti i giorni, che da una parte è positivo perché la questione tecnologica non è più una questione tecnocratica solo per addetti ai lavori, ma sta diventando una questione politica fondamentale, perché si parla del futuro dell'economia, dell'industria, della società e quindi della politica di tutti noi, i big tech sono sotto pressione, sono sotto pressione a livello di commercio internazionale, a livello di tassazione digitale, abbiamo bisogno di nuove tassazioni, abbiamo bisogno di una nuova politica di competitività, una politica di antitrust, che cosa succederà, verranno smembrate alcune di questi grossi monopoli di dati, sì o no, e vediamo che, essendo questa industria molto sotto pressione, c'è anche bisogno di sperimentare dei modelli su cui sicuramente c'è un impatto sociale importante, un impatto sui territori che sia positivo e soprattutto in cui l'Europa riacquisti protagonismo. Io ho scritto un libro su questo, poi dopo il mio intervento, se siete interessati, che è ora nelle librerie in Italia, con codice edizioni, insieme ad Uvgeni Morozov, che si chiama Ripensare la Smart City, dove chiaramente parliamo da una parte di anche una prospettiva, un approccio teorico diverso a una Smart City, che parte dal basso, che ha la sovranità dei cittadini al centro e non solo lo sviluppo tecnologico, e poi diamo tutta una serie di esperienze a livello globale che possono essere eseguite da amministratori pubblici e da chi gestisce le nostre città. Per me è fondamentale spiegare che le città possono diventare un laboratorio democratico e di sostenibilità solo se si pensa a una città digitale che non parte prima dalla tecnologia. Questa è un'agenda che ormai ha una decina di anni in cui si è iniziato a pensare a riprogettare le città con le nuove infrastrutture intangibili e tecnologiche, dove però si è fatto l'errore troppo spesso di partire prima dalla tecnologia, quindi occuparsi di connettività, di dati, di sensori, e solo dopo chiederci ma perché ci serve una Smart City? Per fare cosa? Cosa stiamo cercando di risolvere? E quindi diciamo a Barcellona stiamo mettendo in campo una strategia che invece di partire dalla tecnologia e dai vendor tecnologici parte dai problemi reali della città, quindi a partire dal diritto alla casa, da una sanità pubblica proattiva, una mobilità sostenibile, la transizione energetica, la creazione di più spazi verdi con la lotta al cambio climatico e poi chiaramente il futuro del lavoro e una democrazia partecipativa. Quindi noi partiamo dai bisogni dei cittadini reali e poi dai problemi sociali, ambientali ed economici che vogliamo risolvere e solo dopo ci chiediamo come la tecnologia e le varie tecnologie emergenti, se governata bene e come va governata, può essere di aiuto e una delle risposte a mettere in campo queste nuove politiche urbane. Questa è la nostra sindaca, Ada Colau, è la prima sindaca donna di Barcellona e lei mi ha chiamato, è stata definita dal Guardian the world's most radical mayor, quindi è una donna che ha messo, diciamo ha creato un'agenda molto sociale a Barcellona in cui i cittadini sono protagonisti dello sviluppo attuale della capitale catalana e lei mi ha chiamata a Londra, io ero da nove anni che abitavo a Londra, quattro di cui lavoravo nell'agenzia dell'innovazione del Regno Unito e mi ha chiesto vuoi venire a lavorare a Barcellona ma il suo brief è stato chiarissimo, io voglio fare in modo che i dati e la tecnologia vengono messi al servizio del cittadino. E io ho detto bene, questa è una bella sfida, io lavoravo da tanti anni anche per la Commissione Europea su questo tema, poter mettere in pratica un'agenda tecnologica che serva veramente ai cittadini. Una delle politiche chiave per realizzare questa visione è quella di utilizzare l'intelligenza collettiva per la democrazia. Si parla molto di democrazia partecipativa, di come fare in modo che i cittadini si sentano coinvolti e partecipino nelle decisioni che li riguardano, le decisioni del futuro della città. Per noi questo è veramente una delle politiche chiave della città di Barcellona anche perché lo reputiamo un antidoto a quelle che sono i populismi facili, nel senso che se le persone non si sentono, non hanno fiducia nel pubblico, nelle istituzioni, non possono partecipare allo sviluppo delle politiche e poi alla fine o non partecipano alla politica oppure votano nella maniera più facile senza pensare quali sono le implicazioni. Uno degli esempi chiave di questa politica di partecipazione è uno degli esperimenti più su larga scala nel mondo attualmente è che 400.000 cittadini hanno partecipato alla scrittura del programma della città di Barcellona. Di solito il programma, qui penso si chiama PAM, comunque ha vari nomi tecnici, i programmi dell'agenda della città viene scritta dai burocrati, viene scritta dai funzionari a porte chiuse, diciamo c'è molto poco coinvolgimento dei cittadini e noi il primo anno di governo a Barcellona abbiamo aperto una grossa coinvolgimento e partecipazione cittadina, per cui 400.000 cittadini hanno attivamente partecipato alla scrittura del programma e il 70% delle proposte che oggi sono azioni di governo della città di Barcellona vengono direttamente dai cittadini. Questo è stato un processo che è un ibrido fra una chiaramente democrazia rappresentativa, nel senso che noi siamo lì al governo a rappresentare i cittadini, ma nuovi elementi di democrazia diretta, tra cui anche il bilancio partecipativo, tra cui le consultazioni, le citizen initiative, per cui i cittadini possono collezionare un numero di firme e poi fare delle proposte al comune che vengono discusse nel consiglio comunale e poi è un ibrido fra democrazia sui territori e democrazia digitale. Quindi non è Facebook Democracy, non è click here you solve the problem of the world, non è cliccare e risolvere i problemi, ma è un processo molto più complesso e molto più articolato in cui c'è una grossa volontà politica proprio di integrare le proposte dei cittadini. Noi utilizziamo una piattaforma digitale che si chiama Desidim, Barcellona, è una piattaforma che correntemente è usata da 80 altre città a livello globale, adesso abbiamo alcuni governi, fra cui anche un grosso governo europeo che inizierà a utilizzare questa piattaforma per la partecipazione democratica e diciamo ci teniamo anche a dire che sono strumenti open source, aperti, in cui il codice può essere auditato da esterni, basati sulla trasparenza e soprattutto sono infrastrutture che appartengono ai cittadini di Barcellona. Uno dei progetti che sono un po' un esempio di questo nuovo nostro approccio alla Smart City sono progetti come Barcelona Energia, ad esempio abbiamo creato una municipalizzata per l'energia rinnovabile che produce energia pulita, energia solare e adesso tutti gli edifici pubblici della città di Barcellona sono serviti da questa municipalizzata e abbiamo un pilota di 20.000 abitazioni private la cui energia verrà creata da questa municipalizzata. Un altro progetto, diciamo bandiera, è la Barcellona Superiglia, forse ne avete sentite a parlare, che è uno del nostro urbanismo partecipato che ci ha permesso di chiudere 16 municipi della città al traffico. Quindi adesso abbiamo creato delle isole in cui le macchine possono solo circolare intorno a questi blocchi e abbiamo recuperato il 60% di spazi, spazio pubblico che ora noi chiamiamo spazio ciudadano che prima era occupato dalle automobili e abbiamo lavorato in maniera partecipata non solo con i residenti ma anche con architetti, urbanisti, designer per ripensare l'uso di questi spazi liberati al traffico. In questo modo chiaramente stiamo tentando di applicare una politica molto ambiziosa contro il cambiamento climatico per ridurre drasticamente le emissioni di CO2 ma anche proprio per rendere più spazi verdi e migliorare la qualità di vita dei cittadini. E chiaramente quando si guardano questi tipi di approccio partecipativo all'urbanismo ci si rende conto che non è facile non basta solo dire facciamo una piccola consultazione sono processi articolati, partecipati dove c'è dissenso dove bisogna mettere d'accordo vari interessi e che però hanno un impatto molto forte soprattutto sul lungo periodo. Che cosa stiamo facendo per rendere il governo della città più trasparente più agile, più innovativo? Perché io ci tengo a dire che bisogna rendere le istituzioni pubbliche e il governo della città più sexy anche proprio più attraente per il talento perché c'è bisogno, le città non possono farlo da sole c'è bisogno del talento che entra nelle istituzioni per aiutare a mettere in campo queste politiche quindi bisogna partire proprio da rinnovare il pubblico. Questi sono i tre assi della strategia Barcellona Città Digitale che abbiamo co-creato con l'ecosistema di innovazione della città trasformazione digitale, innovazione digitale e democrazia e empowerment digitale e vi parlerò di alcuni progetti principali. La città di Barcellona innanzitutto sta creando degli standard etici per la trasformazione digitale. Le nostre politiche tecnologiche sono su una piattaforma open source abbiamo creato dei tool kit, proprio dei policy making tool kit che possono essere riutilizzati da tutte le altre città. Perché? Perché non c'era prima una pratica e non veniva standardizzato, non c'erano neanche esempi documentati di come si fa una politica digitale e in che modo si può ottenere un reale impatto sulla città. Abbiamo creato uno standard di servizi digitali adesso il Dipartimento di Tecnologia di Barcellona io gestisco 300 persone nel Dipartimento di Tecnologia abbiamo assunto nuovi 65 profili soprattutto data scientist, giovani perché c'è bisogno di un ricambio generazionale e abbiamo creato un Dipartimento di Trasformazione Digitale Agile qua penso che ne avrete sentito parlare più che altro dal Commissario Piacentini che ha creato un team digitale hanno un po' snellito e diciamo modernizzato l'amministrazione o comunque lo stanno facendo e una delle applicazioni è proprio stato come applicare le metodologie agili allo sviluppo dei servizi digitali. Abbiamo poi delle guide su come fare la contrattazione pubblica e io ho lavorato moltissimo su questo tema dei contratti pubblici perché? Perché questo è quello che fanno i governi fondamentalmente il 70% del nostro budget viene investito in comprare servizi con i fornitori esterni o comprare tecnologia e quindi è fondamentale quindi noi spendiamo i soldi dei cittadini investendoli in servizi ed è fondamentale non solo che ci sia trasparenza quindi abbiamo ora un marketplace digitale in cui tutti i servizi che facciamo tutti i fornitori con cui lavoriamo sono pubblicati per cui si può verificare che non ci sia corruzione che ci sia un'apertura quindi non che solo le grosse aziende che hanno capacità di gestire servizi con il pubblico possono fare le gare ma che realmente si provi a lavorare con l'ecosistema di piccole imprese di start-up, di innovatori che di solito hanno estrema fatica a partecipare alle gare del comune e una delle innovazioni di cui si è parlato nell'introduzione proprio nella contrattazione pubblica che abbiamo inserito sono clausole per la sovranità dei dati che cosa significa? che adesso qualsiasi contratto si faccia grosso pubblico nella città di Barcellona non solo quello telefonico e tecnologico ma anche ad esempio le bici elettriche i rifiuti, la mobilità, vari settori ci sono delle clausole per cui i fornitori devono dare al comune i dati che raccolgono quindi l'intelligenza del servizio, il know-how deve tornare del comune in machine readable format quindi in tempo reale con un formato che può essere consumato direttamente dalla macchina questo chiaramente per poi sviluppare modelli predittivi intelligenza artificiale machine learning eccetera e questa è una politica che ci ha permesso abbiamo messo un anno negoziando con uno dei nostri grossi fornitori Vodafone per non fare nomi che chiaramente ha resistito parecchio a questa politica però dopo un anno visto che c'erano delle clausole legali adesso ogni mese il comune di Barcellona è capace di aggregare questi servizi e con un dipartimento poi ve ne parlerò di utilizzare i dati e le informazioni per creare nuovi servizi per noi è fondamentale mettere al centro la questione dei dati alla fine le città digitali consumano tantissimi dati le città consumano oggi il 90% dei dati che non avevano tre anni fa quindi è una rivoluzione esponenziale molto nuova e i dati sono considerati la materia prima dell'economia digitale questa è una frase di Tim Cook che dice le imprese digitali oggi che tra l'altro hanno chiaramente beneficiato di enormi investimenti pubblici estraggono e monetizzano i nostri dati cioè noi le nostre abitudini i nostri comportamenti e quindi Angela Merkel giustamente e oggi tutti i leader politici iniziano a pensare ai dati come non petrolio ma come sicuramente materia prima per costruire competitività e innovazione e il modello attuale è un estrattivismo di dati o addirittura Shijana Zubov della Harvard Business School se non l'avete letto c'è un suo libro adesso molto recensito che si chiama Capitalismo Sorveglianza Surveillance Capitalism Poche imprese le vediamo sono sette in tutto il mondo americani e cinesi hanno in mano questa grossa quantità di dati su cui costruire le capacità critiche del futuro quindi saranno i dati controllati dalle corporations dagli stati o dai cittadini a Barcellona stiamo facendo una scommessa di democratizzare i dati e l'intelligenza artificiale e fare in modo che i dati possano diventare un'infrastruttura pubblica un bene comune che può essere governato direttamente dai cittadini e questo anche proprio per ritrovare un po' quella fiducia fra il cittadino e l'istituzione pubblica a essere garanti dei diritti digitali dei cittadini abbiamo messo in campo una strategia etica e responsabile dei dati in cui chiaramente stiamo applicando le regole della GDPR sovranità sicurezza privacy privacy ethics and security by design ma anche lavoriamo con standard aperti API documentate e interoperabilità per poi fare in modo che i dati e anche in open data vengono messe a disposizione delle piccole imprese degli sviluppatori locali dei giornalisti del talento locale per creare nuovi servizi e quindi i dati come bene comune che cosa si può fare poi con questi dati a livello locale prima di tutto le politiche sulla trasparenza Barcellona pubblica molti dei dati su come governiamo la città i nostri salari dove investiamo i soldi tutto ciò è possibile consultare nel nostro portale di trasparenza abbiamo un portale open data che adesso si lega a quelle che sono infrastrutture critiche sui dati della città di Barcellona che mettiamo a disposizione soprattutto delle piccole imprese degli innovatori che usano questi dati per creare nuovi servizi e abbiamo una infrastruttura assolutamente pioniera forse la prima di una città nel mondo che si chiama Bustia Etica che è un'infrastruttura con encryption che utilizza Tor come l'infrastruttura utilizzata da Wikileaks che permette a chiunque dentro l'amministrazione pubblica ai cittadini di denunciare casi di corruzione e poi abbiamo un comitato contro la corruzione che agisce su queste segnalazioni anonime quindi manteniamo l'anonimato per fare in modo di combattere la corruzione dentro le amministrazioni pubbliche che è uno dei motivi per cui siamo stati io non eletta però il governo attuale eletto dai cittadini di Barcellona a livello di sensoristica Barcellona ha una piattaforma di sensori una rete di sensori che si chiama Sentillo anche questa è creata con standard aperti e quindi è stata riutilizzata ad esempio anche da città come Dubai o Helsinki che stanno riutilizzando la nostra tecnologia e questo abbiamo adesso 17.000 sensori a livello municipale che si poggiano su una fibra di oltre 700 km quadrati che noi gestiamo come infrastruttura pubblica e siamo in grado di gestire vari servizi ad esempio monitoriamo il consumo energetico adesso abbiamo oltre il 30% di LED in città ma abbiamo un 60% di luci che sono telecomandate e quindi monitorate a livello centralizzato abbiamo una gestione dell'acqua che con la sensoristica ci permette di risparmiare oltre 500.000 euro l'anno abbiamo un urban lab quindi l'infrastruttura di sensori la apriamo alle piccole imprese per testare nuove soluzioni e nuovi prodotti e abbiamo sensoristica anche nella collezione dei rifiuti per fare in modo che possiamo monitorare come avviene se è più efficiente quanto stiamo spendendo e come possiamo renderlo più efficace e tutto un sistema di parcheggi dove riusciamo a monitorare in tempo reale quello che succede tutti questi dati che collezioniamo entra in una piattaforma di la nostra data lake che si chiama CityOS che è una piattaforma che standardizza diciamo un'ontologia comune per i dati che vengono dati urbani dati di open government e poi stiamo facendo un lavoro anche molto avanzato con i dati personali che gestiamo in maniera sicura e quindi da questa grossa piattaforma ci permette di standardizzare di avere un dato unico e di qualità e poi di lavorare su abbiamo creato un ufficio di data analytics che risponde direttamente alla sindaca di Barcellona ci sono 40 persone che lavorano ora in questo ufficio io ho nominato il primo chief data officer di tutta Spagna e in questo ufficio adesso stiamo lavorando appunto con i nuovi profili che fanno data science machine learning per fare in modo che questi dati che aggreghiamo sul funzionamento della città ci possono servire per fare modelli per prendere decisioni in maniera più efficace e anche appunto mettendoli a disposizione dell'ecosistema industriale e locale per promuovere un'economia collaborativa e innovativa chiaramente facendo attenzione che ci sia trasparenza e accountability nella gestione dei dati e anche negli algoritmi e quindi Barcellona oltre ad avere una diciamo strategia etica sui dati adesso insieme a New York stiamo anche ottimando una strategia sull'intelligenza artificiale che ci permette di fare un audit degli algoritmi che utilizziamo soprattutto quando utilizziamo i dati personali sui dati personali stiamo gestendo uno dei progetti flagship della commissione europea sull'utilizzo delle blockchain distributed ledger per la gestione dei dati e quindi diciamo questo è un progetto che si chiama blockchain per la sovranità dei dati che è un progetto un po' avanguardistico per cui noi diciamo ok collezioniamo tutti questi dati ma come facciamo in modo di ristabilire un patto sociale sui dati in modo che siano i cittadini stessi a decidere quali dati vogliono tenere per se stessi e quindi l'encryption come diritto umano nella società digitale e utilizzando le nuove tecniche di encryption che ci permettono una sicurezza adeguata e poi quali dati vogliono condividere con chi e quali sono i termini di condivisione quindi una reale trasparenza e una granularità sul controllo dei dati e delle informazioni personali a mio avviso questo sarà una delle questioni più importanti politicamente del futuro ma anche abbiamo l'opportunità con infrastrutture decentralizzate che hanno la criptografia come parte fondamentale dell'infrastruttura di ripensare il modello di business nelle piattaforme digitali che si basa appunto sulla manipolazione e sulla vendita di dati personali quindi come muoversi da quel modello là in un modello in cui invece c'è una reale diciamo democrazia un controllo più democratico sui dati stiamo facendo degli esperimenti con il progetto di code uno il progetto di code l'infrastruttura blockchain si integra alla nostra piattaforma di partecipazione democratica desidi in barsellona quindi i cittadini possono fare petizioni online in maniera sicura e controllano loro i dati per evitare i vari Cambridge analitica gli scandali che vediamo sempre di più di data leaks dove non c'è assolutamente controllo e trasparenza su chi può accedere ai dati e come manipolarli e poi abbiamo un pilota molto avanzato di internet of things in cui lavoriamo con le comunità questo è un progetto che è stato sviluppato dal Fab Lab di barsellona che si chiama making sense in cui lavoriamo con comunità locali ci permette anche di far partecipare i cittadini che vogliono risolvere dei problemi ad esempio misurare la qualità ambientale le emissioni di co2 a livello locale che non ci sia rumore eccessivo nel quartiere in cui vivono e fare in modo che poi possono trasferire questi dati che vengono da borda arduino che si possono installare in maniera facile dai cittadini stessi fare in modo che li possono condividere in maniera sicura e vi assicuro dai nostri esperimenti che stiamo facendo quando si possono condividere i dati in maniera sicura e il cittadino si sente più in controllo c'è più condivisione non meno condivisione quindi si sfata il modello che se c'è diciamo sicurezza e più controllo poi non si condividono i dati perché è importante poi avere i dati per risolvere appunto i problemi della città questa è un po' il nostro diciamo la nostra mappa dei dati come bene comune come infrastruttura pubblica di città e poi lavorare dentro il comune con il nostro ufficio di data analitica però anche con tutte le municipalizzate e le controllate dei comuni che sono parecchie energia rifiuti trasporti eccetera e creare queste infrastrutture di dati interoperabili aperte e poi lavorare con sviluppatori piccole imprese e start up per creare nuovi servizi in effetti tutta questa innovazione e le infrastrutture della città le mettiamo a disposizione per creare un nuovo modello di innovazione urbana e soprattutto nuove economie di piattaforma start up industria 4.0 eccetera Barcellona adesso anche grazie alla Brexit probabilmente sta diventando uno dei poli di attrazione per le start up e le piccole imprese questa è Barcelona Tech City è una grossa fabbrica centrale come vedete bella location per questo anche che fa piacere venire dove abbiamo oltre 15.000 start up adesso che in tutta la città lavorano e stiamo creando progetti anche molto avanzati sul futuro del manifatturiero urbano questo è un progetto che tra l'altro Milano la città di Milano ha un progetto molto simile sono venuti a Barcellona l'abbiamo studiato insieme stiamo collaborando su come fare in modo di creare collaborazione fra le imprese di industria 4.0 e quindi le più grosse imprese che fanno automazione industriale e il talento che c'è nella comunità maker nei piccoli artigiani nel tessuto diciamo industriale imprenditoriale locale che magari non ha ancora diciamo adottato queste tecnologie ma facendolo in modo esteso nella città e quindi abbiamo creato tutto un distretto maker in cui facciamo questi piloti su industria 4.0 e nuovi modelli diciamo di business abbiamo creato apposta un laboratorio di innovazione urbana questo si trova nel distretto di Poblenou che è un distretto dove noi abbiamo tutte le più grosse sperimentazioni tecnologiche nella città e questa era una ex fabbrica tessile che adesso abbiamo ristrutturato ed è un laboratorio di innovazione urbana che cosa facciamo lì creiamo modelli di innovazione aperta che significa che la città chiaramente non può lavorare da solo ha bisogno di coinvolgere i centri di ricerca le università tutte le persone di talento le imprese grandi e piccole ma soprattutto noi cerchiamo di attraverare le piccole imprese e poi utilizzare le grandi imprese come diciamo volano per creare progetti e abbiamo questi challenge una metodologia per identificare challenge a livello municipale dove la città dice quali sono i problemi che vuole risolvere può essere mobilità può essere sostenibilità economia circolare problemi anche molto concreti ad esempio adesso abbiamo un challenge fra New York e Barcellona su affordable housing sulle nuove case e le costruzioni nuovi materiali per costruire case accessibili per i cittadini abbiamo fatto un challenge utilizzando i dati per risolvere problemi di mobilità con due grosse imprese locali e in qualche modo cerchiamo di risolvere i problemi coinvolgendo gli attori dell'ecosistema locale e questo è molto efficace e adesso lavorando con altre città in rete abbiamo una piattaforma digitale che ci consente di avere challenge comune quindi se io ho un problema a Barcellona e a New York le piccole imprese possono risolvere e creare dei servizi per Barcellona che allo stesso momento possono essere anche applicabili in altre città e quindi avere un marketplace subito globale stiamo chiaramente facendo tutti i vari piloti sull'infrastruttura 5G anche lì è importante dire che Barcellona ha già iniziato con driverless car abbiamo un progetto col Barza sulla sicurezza per gli stadi e il flusso delle persone stiamo creando casi di uso che ci permettono di avere un'infrastruttura 5G che sia neutrale quindi non solo per gli operatori ma per la città e in cui anche lì abbiamo fatto un accordo con le piccole e medie imprese per coinvolgerli nel testare queste nuove infrastrutture chiudo la mia diciamo presentazione parlando di una parte molto importante della strategia che è pensare all'educazione al futuro del lavoro e a come veramente dare più potere ai cittadini in questa rivoluzione industriale innanzitutto abbiamo messo in campo un progetto che si chiama STEAM Barcelona Science Technology Engineering Arts Mathematics con l'arte ci tengo a sottolineare che non siano solo competenze scientifiche ma che sia anche competenze artistiche e competenze umanistiche e stiamo lavorando con le scuole di Barcellona per integrare questi nuovi curriculum e quindi gli skill digitali in tutte le scuole catalane abbiamo anche creato quattro makerspace o fab lab che sono pubblici e che si focalizzano sulla questione educativa nuovi modelli pedagogici e bisogna diffondere queste competenze in tutta la popolazione e quindi fare in modo che siano programmi strutturati c'è la nostra agenzia di innovazione di sviluppo economico Barcellona Attiva che quest'anno ha diciamo creato dei corsi per 40.000 persone sia bambini che persone che stanno acquisendo nuove competenze o persone che hanno perso il lavoro e devono essere retrained insomma per il futuro abbiamo anche degli esperimenti interessanti ad esempio utilizziamo abbiamo fatto un progetto di criptomoneta per il radio cittadinanza che l'ho messo qui perché vedo che anche il governo italiano lo sta facendo su larga scala noi siamo partiti da un pilota locale che stiamo gestendo con 10 milioni di euro quindi una cosa molto più piccola per vedere poi come è possibile scalarla e come ultimo argomento che è assolutamente fondamentale non ci può essere una rivoluzione digitale che non sia una rivoluzione femminista quindi bisogna mettere al centro dello sviluppo tecnologico le donne fare in modo di visibilizzare il lavoro delle donne nell'industria nell'università nelle scuole a tutto campo perché chiaramente non possiamo fare che il 50% della popolazione non sia attiva protagonista della creazione del futuro e dello sviluppo di un'industria assolutamente importante per il futuro e quindi come vedete io vi ho dato una panoramica scusate se ho messo troppi progetti insieme per così breve tempo però era per darvi un po' un'idea delle cose che stiamo facendo e chiaramente questo è un hub di innovazione digitale locale cioè la partnership è fondamentale la città non può fare nulla da solo qui ad esempio ho messo alcune delle istituzioni per noi fondamentali mobile world capital questo mese proprio abbiamo il mobile world summit di nuova a Barcellona le scuole di business le università i centri di ricerca le piccole imprese è tutto un ecosistema che si deve muovere insieme e trovare le maniere di collaborazione pubblico privato e cittadini per fare in modo appunto di implementare tutto ciò e questo è veramente l'ultima slide io adesso sono anche coordinatrice di una rete globale di CIOs quindi Chief Innovation Officer sempre più città hanno questo ruolo e ci tengo a sottolineare che chiaramente la trasformazione digitale non è una trasformazione tecnologica ma è soprattutto organizzativa e culturale e quindi è per questo che molte città si sono dotati di Chief Innovation Officer di assessori specifici alla digitalizzazione di nuovi dipartimenti e stanno facendo scelte organizzative diverse e nell'ambito di questa grossa rete di CIOs a livello globale insieme a New York City e Amsterdam abbiamo lanciato un'alleanza di città per i diritti digitali questo proprio per essere molto chiari ed espliciti sul fatto che vogliamo e proprio essere da esempio in tutta Europa sul fatto che si può avere un framework per una società digitale per un futuro digitale che metta al centro i diritti e le persone prima di pensare a quali sono le strategie di ottimizzazione della città e quindi su questa base insieme a UN Habitat UCLG EuroCities e le reti di città stiamo creando questa piattaforma di città per i diritti digitali abbiamo come obiettivo quello di avere 100 città nel primo anno Milano è già praticamente sta adesso aderendo all'iniziativa e quindi non si può costruire una smart easy se non dal basso con i cittadini coinvolgendo tutto l'ecosistema della città grazie grazie a Francesca Abria lei trova anche il tempo ogni tanto di dormire un paio di ore per notte ogni tanto e di staccare no la cosa che ho imparato anzitutto devo dire tanti progetti e tante idee ma parliamoci chiaro se ancora oggi stavo per dire una volta ma ancora oggi se un vostro amico vi dice ho trovato lavoro al comune insomma a uno viene in mente la cartofia il bollo l'ufficio polveroso un po' di burocrazia e oggi se non sei ingegnere informatico magari con un PhD come il suo caso all'Imperial College di Londra non tocchi palla non tocchi palla però io partirei da qui 300 persone nell'ufficio 40 nell'analisi dei dati quindi queste cose arrivano con degli investimenti cioè c'è un pensiero e anche tanti soldi dietro ma sì innanzitutto sul primo punto io l'ho detto in maniera quasi un po' giocando ma no bisogna rendere io sono bisogna rendere le amministrazioni pubbliche sexy cioè bisogna essere capaci di dire se non si innova il pubblico non si innova il paese non si innova la città e credo sia importante almeno per le città lo abbiamo chiarissimo se non attriamo talento e non siamo in grado noi utilizziamo moltissime persone adesso giovani che escono dalle università dai centri di ricerca che sono capaci perché bisogna un po' riprogrammare la macchina io nel dipartimento tecnologico avevamo un'età media anche a Barcellona di 50 anni e adesso i 65 l'iniezione di nuove 65 persone stanno anche abbassando che usavano il Commodore oppure il Blackberry come me ha bisogno di nuovi profili professionali ma anche ha bisogno di fare accordi con i centri di ricerca con le imprese noi utilizziamo molto questa cosa che le persone di talento possono venire a lavorare un po' nell'amministrazione aiutarci a sviluppare progetti e poi e poi trasferire la conoscenza dentro l'amministrazione pubblica quindi bisogna fare uno sforzo per cambiare un po' la macchina ecco cambiare un po' la macchina ci spieghi un po' meglio io devo dire personalmente sono abbastanza scettico forse perché l'esperienza unica o la più diffusa che abbiamo mediaticamente di democrazia partecipata dal basso è la piattaforma Russo che non è secondo me esattamente un modello virtuoso diciamo meno che ancora trasparente di gestione di democrazia dal basso però vedevo un dato interessante che mi ha colpito 13.000 proposte e 72% accettate che cosa significa perché se noi apriamo oggi un dibattito qua già soltanto tra di noi per dire cosa va a restare dei tre grattacieli che sono qua fuori secondo me verrebbero fuori le idee peggiori alcuni magari vorrebbero distruggerne un paio eccetera ecco come si fa però un filtro per arrivare a quel livello di accettazione che presuppone il fatto che il cittadino si metta lì e faccia delle proposte che abbiano un senso sì innanzitutto bisogna dare reale importanza a questo a questo processo di partecipazione la nostra sindaca l'ha fatto noi abbiamo creato un dipartimento sulla partecipazione dei cittadini abbiamo un'equip multidisciplinare con un codice etico che gestisce la partecipazione andiamo nei quartieri quindi non è solo partecipazione digitale ci tengo a dirlo nel senso che la piattaforma codice libero interoperabile potete vedere cosa succede con i dati non manipoliamo nessun risultato le visualizzazioni le utilizziamo per spiegare ai cittadini dove investiamo come investiamo qual è l'impatto sulle politiche quindi c'è molta serietà sull'utilizzo dello strumento però e soprattutto andiamo in tutti i quartieri abbiamo analizzato i dati e non sono solo i nativi digitali che usano l'applicazione ma ci sono persone oltre 65 anni ci sono background socio-economici differenti etnici cioè cerchiamo di essere inclusivi e soprattutto sono processi difficili non è che c'è la bacchetta magica di ci chiedere ai cittadini e risolvere i problemi l'unica cosa è che chiaramente quando hai una forte partecipazione e un'implicazione dei cittadini nella gestione poi di alcuni progetti municipali ma anche proprio della definizione delle politiche chiaramente poi vedi che la città funziona meglio perché hai una gestione che è più hai bisogno dell'intelligenza dei cittadini per gestire una città non lo puoi fare solo dall'amministrazione non lo puoi fare in modo livello la partecipazione dal basso sicuramente e anche la presenza fisica nelle strade sicuramente aiuta anche se poi per ricondurre io penso al dibattito medio che c'è in Italia immagino anche in Spagna non so se è simile ma immagino di sì su Facebook e su Twitter cioè il dibattito medio è un livello abbastanza raccapricciante però voi per ricondurre questo flusso di informazioni a proposte concrete lavorate anche su degli algoritmi che vanno a scremare lavoriamo su degli algoritmi che filtrano che filtrano le proposte però ripeto sì abbiamo appunto c'è tutta una parte di visualizzazione se sei interessato poi abbiamo documentato tutto abbiamo anche paper accademici che spiegano un po' quello che stiamo facendo perché ci teniamo a documentarle e averla poi come esperienza che si possa replicare però a parte gli algoritmi la cosa più importante è come noi siamo strutturati nel comune e come lavoriamo con le associazioni con i cittadini con i quartieri come integriamo questa parte della partecipazione in tutte le politiche che facciamo addirittura abbiamo anche lo strumento desidim viene usato dentro l'amministrazione per i dipendenti pubblici perché non sono solo i cittadini che devono imparare a partecipare ma è l'amministrazione pubblica che deve essere ricettiva cioè di nuovo io credo che uno dei nostri ostacoli principali non è cambiare il cittadino molti dei cittadini sanno quali sono i problemi e anche hanno delle idee interessanti sulle proposte ma l'amministrazione pubblica è completamente incapace di lavorare in questo modo nuovo e quindi anche proprio partendo da dentro e facendo tutto un lavoro di partecipazione con i dipendenti di lavoro anche con loro stiamo tentando di rendere l'amministrazione pubblica più aperta e più capace di integrare l'intelligenza collettiva dei cittadini ma che possibilità abbiamo in Italia di traslare questo modello appunto a me colpivano questi 300 soggetti che lavorano sulla digitalizzazione quindi nuovi ingegneri tecnici profili alti io penso anche al Comune di Milano che comunque sta lavorando molto su questi temi ma siamo distanti credo da questo schema ma appunto noi stiamo lavorando molto in rete le città quindi sì Barcellona è avanti perché comunque ha iniziato molto tempo fa a fare delle politiche urbanistiche pioniere e quindi ad avere un progetto di città e un modello di città e poi integrare tutte le varie innovazioni che vengono via via e quindi sì abbiamo un modello Barcellona che io credo funziona bene e anche una delle amministrazioni più efficaci in Spagna sicuramente anche rispetto ad altre città e però ecco ad esempio Milano sta facendo tante cose hanno anche ripreso la nostra piattaforma sui dati perché poi lavorando appunto in rete con ad esempio la nostra piattaforma sui dati è tutto anche il data lake con i vari modelli che costruiamo è tutta open source cioè se tu sei un'amministrazione pubblica poi chiaramente lo puoi rivedere puoi ricostruire dei pezzi puoi riprogettare però puoi utilizzare molte delle tecnologie che noi stiamo utilizzando a Barcellona quindi c'è possibilità di imparare di apprendere di scambiarci cose ad esempio Milano ha proprio un programma in cui scambiamo progetti sul digitale e veramente in Europa è l'unico modo per fare innovazione cioè l'Europa deve cooperare le città cooperano e poi come mi ha detto proprio l'ex commissario al digitale Piacentini l'innovazione la digitalizzazione parte dalle città non parte dal governo quindi bisogna saper lavorare con le città e saper mettere le città in rete per fare queste cose rapporto pubblico privato lei accennava prima al lungo negoziato con Vodafone per arrivare poi a una fornitura di servizio con però un vincolo mani legate cioè i dati sono miei quindi i dati non te li tieni tu Vodafone li dai a me ci dà qualche elemento in più di questa negoziazione e anche rapporti con altre aziende perché soprattutto per un'azienda di telecomunicazioni è chiaro che il dato oltre che insomma all'abbonamento mensile sicuramente quello aiuta ma anche il dato è importante sì questa è una nuova politica che stiamo sperimentando su cui c'è molto interesse anche a livello europeo perché in realtà quelli sono servizi pagati con i soldi dei cittadini di Barcellona quindi chiaramente io non posso gestire il servizio e poi fare in modo che il know-how l'intelligenza rimanga col fornitore quindi abbiamo chiesto e abbiamo creato queste clausole che danno attenzione alla proprietà intellettuale al software e alla proprietà dei dati cose che nell'amministrazione pubblica viene fatto poco ma che è sempre di più insomma importante che nella gestione del servizio poi si mantenga un know-how pubblico e soprattutto i dati che sono infrastruttura critica urbana devono essere di proprietà della collettività e di chi paga per il servizio e questa è una delle politiche però abbiamo anche fatto altre cose tra cui appunto come dicevo che il Comune di Barcellona ha investito quasi l'80% del nuovo investimento infrastrutturale cioè di IT in soluzioni interoperabili standard aperti open source software dove possibile e tra l'altro se si guarda i nuovi sviluppi intelligenza artificiale librerie che vengono utilizzate per machine learning eccetera è tutto in open source questo ci ha permesso di fare anche io appena sono entrata a Barcellona ho fatto un audit tecnologico chiaramente per capire cosa compriamo e da chi compriamo e c'è una concentrazione di fornitori estrema nella pubblica amministrazione ora per noi era importante fare in modo che non solo le grosse imprese che sanno le regole del gioco possono lavorare col comune ma aprire la contrattazione pubblica alle piccole imprese alle start up a chi ha le soluzioni più innovative e quindi utilizzando la famosa innovation procurement ma anche queste clausole che ci permettono di aprire un po' il gioco di fare in modo che ci siano più attori più innovazione e che il pubblico possa lavorare in partnership virtuosa quindi se io investo poi c'è un ritorno c'è qualche azienda che si è tirata indietro e che ha detto no i dati li voglio ottenere io altrimenti non riesco ci è costato un anno la negoziazione quindi è chiaro però io credo che poi sono pratiche che in qualche modo poi noi i dati li restituiamo creiamo un ecosistema aperto li mettiamo a disposizione delle piccole imprese cioè vogliamo creare non li vogliamo ottenere no anzi vogliamo che poi dai dati si sviluppano opportunità per il futuro nuovi modelli economici nuovi servizi e quindi chiaramente è una politica che guarda il futuro ecco lei fa parte anche di un gruppo di lavoro che ha messo insieme l'Unione Europea per ragionare in termini di sovranità digitale sovranismo se Salvini legge la prima parte dice sono d'accordo anch'io poi in realtà non c'entra nulla e quindi può darsi che sarà in disaccordo pure su questo perché è importante che l'Europa vada avanti su questo e non soltanto la città di Barcellona perché deve essere un problema collettivo questo perché appunto quella che viene di solito vista solo come tecnologia e scelte tecnologiche che devono fare poche imprese tecnologiche esperti e addetti ai lavori in realtà sono scelte fondamentali sul futuro dell'economia dell'industria della società e del modello economico e sociale in cui viviamo e quindi se si lascia la leadership sulle infrastrutture critiche del futuro soprattutto intelligenza artificiale e l'utilizzo dei dati a una parte i grossi monopoli americani quindi Amazon, Apple Facebook e pochi altri che possono che hanno un modello di business estrattivo appunto monopoli sui dati e dall'altra parte le grosse imprese cinesi sono sette sette imprese in tutto il mondo che hanno le capacità di utilizzare i dati e le intelligenze artificiali per creare nuovi servizi ma questo vuol dire nuovi servizi nella mobilità nell'educazione nella sanità nelle industrie critiche centrali su cui si basa il modello anche sociale europeo quindi se l'Europa non riprende una sovranità digitale non fa le politiche giuste e crea un'alternativa da una parte a Silicon Valley e dall'altra al modello cinese dove non so se sai che tutti i dati vengono collezionati in maniera centralizzata vengono fatti dei social credit system in cui i cittadini hanno un punteggio e uno scoring in base al comportamento sociale e se il comportamento è conforme a quello che il governo e il partito pensa allora hanno i punti e possono accedere ai servizi se no no ma anche addirittura non puoi prendere l'aereo c'è proprio un livello di scoring assolutamente insomma non corrisponde all'idea di diritti fondamentali di diciamo economia sociale di mercato che abbiamo in Europa e quindi di trovare un beneficio sociale un beneficio nell'innovazione quindi l'innovazione deve essere guidata in qualche modo verso appunto impadronirci anche poi del beneficio impadronirsi dei dati e gestirli tra l'altro uno dei temi che affligge tutte le aziende italiane quasi tutte le aziende italiane insomma è quello della capacità di trovare i profili adeguati stavo pensando alla scuola mentre raccontava questa necessità di gestire i dati conoscerli io immagino che altri paesi gli Stati Uniti per esempio investano molto di più in informatica da fin dalla giovane età per i ragazzi che vanno a scuola noi qui facciamo fatica a trovare gli informatici a Madrid è la stessa cioè quando dovete assumere io credo non lo so se il problema italiano ad esempio in Spagna il problema è che ci sono molte persone qualificate che non trovano lavoro quindi c'è disoccupazione giovanile laddove anche ci sono grosse competenze e quindi magari anche il costo del lavoro è più basso eccetera lì bisogna riqualificare e dare un'opportunità chiaramente ai talenti dei giovani e poi sì andare a fare questi cambiare il modello educativo ma fin dalle scuole elementari cioè noi a Barcellona lavoriamo integrando ricreando un po' i curriculum scolastici fin dalle scuole elementari e poi piano piano creando le competenze che servono un progetto in particolare scegliendone uno di cui lei va particolarmente fiera cioè il fatto di aver creato qualcosa non so i quartieri chiusi piuttosto che il fotovoltaico che faceva vedere prima cioè qualcosa per cui lei dice sono contento di essere andata lì perché questo l'abbiamo creato grazie alla partecipazione dal basso ma due sicuramente la superblock c'è questo modello di nuova pianificazione urbana sul futuro della mobilità io credo che il futuro della mobilità per le città sarà essenziale e noi abbiamo creato questo modello per cui diciamo si ripensa la mobilità la mobilità elettrica il cambiamento climatico è un obiettivo assolutamente centrale quindi quello è un progetto bellissimo di cui vado fiera e l'altro io sono ho lavorato moltissimo sui dati ho creato l'ufficio di data analytics del comune di Barcellona il nuovo progetto di infrastruttura criptata decentrata per far gestire i dati ai cittadini quindi per me la democrazia e il controllo dei dati è la questione fondamentale del futuro della politica adesso facciamo un esperimento di partecipazione dal basso a chi di voi è piaciuto l'intervento di Francesca Bria sulla mano ecco allora intanto abbiamo dimostrato che anche senza internet però riusciamo ad arrivare al dunque grazie per averci seguito grazie a Francesca per la sua presentazione grazie a voi arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti